Come Presidente dell'Ordine dei Medici sono qui questa sera proprio per portare la voce di chi tutti i giorni si confronta e si scontra con i problemi della sanità a Vercelli. Ringrazio molto Andrea Kerchi per aver organizzato questa serata che speriamo renda consapevoli soprattutto quelli che hanno responsabilità direttive di scelte di giusti investimenti che la sanità a Vercelli è in difficoltà nonostante medici e infermieri lavorino con grande spirito di sacrificio e di dedizione ma che necessitano di supporti organizzativi che oggi sono troppo carenti. Mi auguro che la città si renda consapevole che questa è una battaglia per la tutela della salute della nostra vercellese realtà.